L'Ikeri, peraltro ha aggiunto Lavrov che l'Italia è in prima fila tra coloro che adottano e promuovano le sanzioni antirusse e volevo sapere se ci dobbiamo preoccupare quando voi vi riferite agli sforzi diplomatici per arrivare a una soluzione, per arrivare alla pace, mettete anche in conto che l'Ucraina dovrebbe, la comunità internazionale dovrebbe spingere l'Ucraina a cedere dei pezzi di territorio, ammesso che poi noi si abbia, come dire, diciamo così, il sia giusto di imporre a un paese di cedere un pezzo del proprio territorio, però si può, diciamo, eventualmente spingere verso quella direzione. Che cosa vi riferite quando voi pensate a delle trattative di Ikeri? Perché Bordone in questo momento ciò che sta generando paura e disorientamento non sono tanto le dichiarazioni del politico russo di turno che sta recitando la parte ovviamente di uno dei contendenti di questa maledetta faccenda, Sì, il ministro degli esteri. Quello che ci deve spaventare è la sensazione di un generale arretramento della politica e della diplomazia. Prima stavate citando Tiziano Terzani che dice l'inclinazione naturale dell'uomo ad evitare le salite e prendere invece le discese, salvo poi scoprire che quelle discese ti portano dentro un buco. Quindi non spaventa adesso in questo momento la letalità delle munizioni che sono a disposizione delle parti. Spaventa il fatto che ci sia una certa arrendevolezza, quasi che in questo momento l'unica cosa, data la rigidità della Russia, quasi che l'unico modo possibile per risolvere questa controversia sia passare la parola alle armi. E questo non deve essere, nonostante mi rendo conto ci sia un quadro davvero molto 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 complicato, nonostante io sappia benissimo che quando c'è un conflitto militare ci sono anche voci che non sono proprio spinte da ammantate di grande nobiltà, ma che ci sono comunque interessi in gioco. Ma non dobbiamo arrenderci e soprattutto non dobbiamo abbandonare quello che è stato lo spirito della risoluzione parlamentare che solo 4-5 settimane fa abbiamo votato. In quella risoluzione c'erano tre pilastri. Il punto numero uno, l'invasione dell'Ucraina è un crimine, secondo la legge dello Stato e delle regole del diritto internazionale. Punto numero due, la resistenza ucraina va sostenuta in tutte le forme possibili, anche militari, perché quello è un popolo che sta combattendo per la propria libertà, per il proprio popolo, per la propria terra. Punto numero tre, ma dobbiamo restare dentro il perimetro dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, cioè non dobbiamo travalicare le esigenze legate all'esercizio del diritto di autodifesa. Io vi cito una dichiarazione che è stata rilasciata pochi minuti fa, avrete forse letto l'agenzia, Stefan Ebestreit è il portavoce del cancelliere tedesco. Pochi minuti fa in una conferenza stampa dice, quando un paese viene attaccato ha diritto alla difesa, ma questo diritto non riguarda solo il proprio territorio. È alla domanda di un giornalista, ma cosa potrebbe accadere se in un'operazione militare in terra russa dovessero essere impiegati armamenti della Nato? Lui non ha risposto a questa domanda, ha detto che si trattava di una domanda ipotetica. Allora la politica si riprenda la primazia, ci vuole un approccio multilaterale. Sapete che ci sta dando una lezione di multilateralità? Ce lo sta dando Modi che il premier indiano, che da domani verrà in Europa e parlerà con tutti i leader europei, e sapete perché verrà? Ha detto che verrà per rafforzare la cooperazione internazionale, la multilateralità è l'unica strada che ci può portare fuori da questo pasticcio. Vi dico che c'è un nuovo intervento contro il caro Balletti, sia in aiuto alle famiglie che alle imprese. Tra le norme è previsto un amplimento del credito d'imposta per le aziende energivore e gasivore, confermato il bonus sociale che consente di azzerare l'aumento dei costi ed è stato ampliato a famiglie con Isei, fino a 12.000 euro, 20.000 sta in presenza di quattro figli. Nel frattempo Berlino dice che siamo pronti all'embargo sul petrolio russo. Licheri? Chi dice che le sanzioni fanno più male a noi che alla Russia? Ragione o a torto? Ho tre minuti di tempo per fare sia lei che... No, dobbiamo essere consapevoli che le sanzioni che comminiamo ci ritornano in parte dolorosamente indietro, ma dobbiamo essere altrettanto consapevoli che se vogliamo portare il tavolo verso un cessato il fuoco dobbiamo usare la pressione economica da un lato e il dialogo dall'altra. E noi questo non lo abbiamo ancora capito. Certo è fondamentale tenere unita l'Unione Europea, tenere unito il fronte europeo, quindi agire congiuntamente. Ecco perché parliamo di Energy Recovery Fund. L'Europa deve tornare a fare l'Europa, deve creare un fondo, stoccaggi comuni, acquisti comuni, cap price, tetto massimo. Dobbiamo rafforzarci se vogliamo essere incidenti nella diplomazia in questo momento. Voi da soli, Liccheri, vi dispiacerebbe correre da soli alle elezioni quando ci saranno? Perché allo Stato, insomma, la legislatura arriva fino all'anno prossimo. Ho perso l'audio per un pezzo ma credo di aver capito la domanda. A voi non dispiacerebbe correre da soli o comunque col PD? Non è questa la differenza politica. La cosa importante è che con il PD ci sia un rapporto leale, franco, così come c'è stato. Noi durante il governo Conti Due abbiamo costruito un patrimonio politico, abbiamo dimostrato agli italiani di essere stato in grado di portarci sulle spalle questo paese fuori dalle secche della crisi, dei lockdown. Penso che tutto questo patrimonio possa ulteriormente arricchirsi anche da quelle che possono essere le diversità tra noi e loro. Ma è importante che in Italia si continui a parlare di giustizia sociale, di salario minimo garantito e di inclusione. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani alle 14. Grazie.